Parliamo adesso di siccità e di sistema idrico regionale, due deficienze su cui la regione deve intervenire. Il servizio è di Maurizio Ciotola. Il sistema idrico regionale si affida alla speranza della pioggia, più che uno sviluppo a rete e una riduzione delle perdite. Siamo cresciuti con il grande proposito di un piano delle acque che nei fatti è partito male, realizzato peggio, senza essere mai terminato. Un sistema idrico che consuma in pompaggi enormi quantità di energia elettrica non autoprodotta, ma acquistata dalla rete con oneri significativi. Un sistema di raccolta gestito dall'Einas, uno di distribuzione esercito da Banoa, che nel loro complesso determinano perdite medie del 53% dell'acqua raccolta. Un grande delirio, cui nessuna azienda efficiente potrebbe accettare. Non parliamo di azienda pubblica o privata, ma di azienda efficiente, vista la risorsa gestita. Eppure l'Egas, l'organo politico regionale che sovrintende la gestione della gestione idrica e isolana, non ha mancato di evidenziare gli obiettivi urgenti. La nuova giunta regionale non può e non potrà ignorare questo problema mai risolto, non per incompetenza, ma probabilmente per l'assenza di una specifica volontà in tal senso da parte delle due direzioni aziendali. Vi è poi il sistema idrico del Taloro, gestito da Enel, che genera guadagni da capogiro sul mercato elettrico, con una gestione limitata ai guadagni generati dalla risorsa primaria, l'acqua, che viene fatta defluire secondo le esigenze. L'ampiamento dei bacini e la realizzazione di nuovi deve essere pianificata nella duplice ottica della riserva idrica e della produzione elettrica, così come deve essere totalmente rinnovato il sistema di distribuzione obsoleto che in città come Cagliari raggiunge perdite di oltre il 60%. Grazie. Grazie.